Ciao a tutti i farmer, spero tutto bene. Ci abbiamo Stracciatella che sta male. Ora tra pochi minuti dovrebbe arrivare Irene che è la veterinaria specializzata in cavalli, però segue anche gli asini. Tu hai fatto veterinaria? Sì, veterinaria. E dopo lì scegli un po' se andare in clinica o fare... No, allora tu i 5 anni per ora in Italia, così sono uguali per tutti. Dopodiché all'ultimo anno esistono 6 mesi di modulo professionalizzante dove tu scegli un ambito che più ti interessa, cani e gatti, oppure la clinica del cavallo, oppure la chirurgia del bovino, insomma scegli un ambito. Dopodiché ti laurei e sei al pari di tutti i tuoi compagni, a quel punto puoi scegliere o di intraprendere, ora esistono delle scuole di specializzazione, oppure puoi iniziare a seguire dei colleghi che lavorano in un certo ambito e quindi prendere una specializzazione. Bravissimo, un po' sul campo. Che alla fine a volte è la cosa migliore. Sì, esatto, tutti siamo passati da lì. Eh beh, in ogni ambito, eh.